Ciao, sono Alessandra Leone, Master Crystal Nails, ed oggi sono qui per presentarvi una delle novità estate 2024. Conosci già i nostri Acrygel? Vieni con me che te li presento. Quattro fantastici colori che si aggiungono alla famiglia degli Acrygel Fusion, tutti in tonalità estremamente brillante e soprattutto glowy. Quindi, sempre in formato tubetto, così da mantenere alta la densità e la temperatura all'interno della confezione. Questo permette di prelevare una pallina di prodotto molto rotonda e quindi facile da modellare. Questi Acrygel, rispetto a quelli già esistenti, hanno la stessa identica densità. Questo permette di poterli utilizzare sia per realizzare degli allungamenti, sia delle bombature, e sia addirittura delle correzioni con o senza formina, grazie all'altissima densità. I colori sono bellissimi e brillanti, perfetti per questa stagione che tanto desideravamo. Ma vediamoli nello specifico questi colori. Glowy Baby, Glowy Pink, Glowy Coral e Glowy Violet. Veramente meravigliosi. Effetto Glowy assicurato. Tutte le novità estate puoi trovarle sul sito www.crystalmix.it e all'interno di tutti i rivenditori d'Italia.